la lingua la lingua la imparate durante i corsi i corsi quando si fanno di notte perché di notte non dormite non si dorme o molto raramente o a volte ci sono giorni in cui dormite basta lo fanno anche per destabilizzarvi perché non avere una regolarità di sonno al corpo umano lo destabilizza molto più di ogni altra cosa tanto è vero che mi è successo di camminare e non ricordarmi la strada che ho fatto ma non perché soffriti di alzheimer perché ero veramente in trance non mi ricordavo la strada come come avessi fatto ad arrivare in quel posto lì succede perché quando non dormite per giorni e tu dici come fa a camminare a dormire non so però succede me è successo quindi ti ritrovi in quel posto e non sai come sei finito lì e è normale cioè il minimo che possa succedere quindi dopo di questo una volta finito l'addestramento il francese appunto non lo imparate per forza perché tutti parlano francese è vero anche che per i latini è più semplice perché la grammatica è molto simile le parole molto spesso si assomigliano cambiano solo un po l'accento quindi più facile è vero io dopo un anno grosso modo parlavo abbastanza bene il francese mentre invece ovviamente per i russi i cinesi tutte queste nazioni che hanno totalmente un alfabeto diverso è molto più difficile ma è anche un problema per chi è più avvantaggiato perché appunto per me che sono più avvantaggiato nel imparare questa lingua devo preoccuparmi che il mio collega quando mi parla mi capisca quindi sta prima voi imparate prima voi dovete aiutare gli altri ad impararla cioè nessuno è avvantaggiato in qualcosa lì dentro perché anche fisicamente chi è più prestante deve tirare chi è più debole devi tirarlo e magari la domanda è è perché chi è più debole non viene lasciato indietro perché non si abbandona mai né armi né soldati mai per nessun motivo al mondo è inesistente questa cosa non esiste prima dovete pensare a voi ma una volta che voi state bene la seconda cosa a cui dovete pensare è il collega che avete vicino e basta questa è l'unica vostra preoccupazione sia in addestramento sia nella vita di caserma sia in operazione la vita di caserma per esempio un'altra cosa che vi porteranno all'odio contro questa cosa è lo stirare stirare le divise perché perché dovete avere tutti i giorni le divise stirate perfette sia mimetiche sia divise in italia viene chiamata la drop la così chiamata drop la si chiamate def dovrà essere sempre assolutamente impeccabile quindi per chi non è capace di stirare chi sa stirare o imparerete a stirare ve lo garantisco perché io sono partito che non sapevo stirare ho sempre fatto tutto a casa ma stirare mai li ho imparato benissimo perché starete giorni e giorni con ferro da stile in mano a stirare la divisa finché non è come dicono loro perché perché con loro la legione ci tiene molto all'immagine quindi un'immagine di un soldato ordinato preciso e curato è tutto è tutta un'altra storia rispetto a un soldato trasandato quindi è tutto quello che per sintetizzare quello che è come la legione è tutto estremizzato tutto l'aspetto la il comportamento la devozione la professionalità la prestanza fisica la lingua è tutto estremizzato ai massimi livelli cioè più voi avete un un livello alto in queste cose più sarete un buon legionario e voi dite è ma se stiro bene a me alla fine che che mi cambia se stiro bene piuttosto che se sparo bene cambia perché perché nella vita di una caserma nella vita comunque di un soldato c'è anche il rapporto tutto dipende da voi nel senso che è vero che chi vi chi è il vostro superiore ci tiene che voi siete un buon combattente un buon soldato sì ma c'è anche la vita di caserma cioè i picchetti le cerimonie le sfilate tutto questo la legione è enfatizzata al massimo in francia tanto è vero che il 14 luglio per le champs di sé la legione sfila per ultima perché perché è quella che c'è il passo più lento sì ma è anche quella più che viene più aspettata da tutta la francia per vederla sfidare perché non perché sono un ex legionario ma perché veramente la parte più bella di tutta la sfidata perché è tutto perfetto cioè voi vedete tutte le persone che sono lì che si muovono all'unisono cioè è quasi impossibile umanamente da fare ma anche lì state una settimana giorno e notte a fare le prove della sfidata è tutto estremizzato ai massimi livelli perché per raggiungere la perfezione sì niente è perfetto ma vi garantisco che la legione ci si avvicina in tutto quello che riguarda l'obiettivo che ha in mente di raggiungere quindi che sia una sfilata per essere belli che sia un combattimento per essere performanti la strada è quella cioè devozione e costanza e appunto martoterapia giorno e notte a fare e riprovare quelle cose lì quindi anche lo stirare sarà una cosa che farete da da donna delle pulizie non da soldati ma lo dovrete fare giorno e notte con le lampadine frontali in fronte state lì a stirare perché magari chi ha già stirato dorme voi che non riuscite a stirare dovete stare lì e stirare e la differenza punta in questa chi ha stirato molto spesso deve aiutare chi deve stirare perché perché è vero che io ho stirato quindi la mia divisa è pronta ma se il mio collega la divisa non ce l'ha pronta non posso fare la sfilata neanche io quindi ci rimetto anch'io questo molto spesso porta a un conflitto all'interno perché poi dopo arrivando ai livelli di stress molto alti favorisce a volte un conflitto ma dopo il conflitto c'è un'unione che io da figlio unico che non ho fratelli posso dire di sapere cosa prova un fratello per un altro fratello perché dopo dopo questo le gambe che si crea tra tra chi sta lì e gli altri è una cosa indiscrevibile forse più forse più di un fratello a volte o degli amici con dei fratelli e vedo che non hanno lo stesso rapporto che ho io a oggi ancora con ex colleghi o colleghi che sono ancora rimasti quindi è la forza della legione è anche questa soprattutto questa l'aiutarsi fino alla morte in tutti i modi possibili immaginabili un'altra cosa che vi viene chiesta è di sbrigarvela da soli non importa come loro vi dicono voglio che tu faccia questo come non vi chiedono come una volta che voi l'avete fatto non mi viene chiesto come l'avete fatto basta che è stato fatto questo è un consiglio che mi permetto nonostante sono giovani di dare a tante persone oggi perché molto spesso quando sono di fronte a un problema oa una una difficoltà tanti dicono è ma come faccio molto spesso sento dire come faccio non conta come lo fai l'importante che uno c'è si deve ragionare nel fare quella cosa non come la deve fare l'importante farla poi come non è un problema nessuno mi verrà a chiedere è ma tu come hai fatto ad andare così forte essere così bravo l'ho fatto l'importante è farla punto e questo è anche questo è uno scoglio molto grosso da dover superare lì dentro perché anch'io ovviamente mi chiedevo come mi dicevano fai questo e dicevo sì ma come no devi farlo appunto poi come non è un problema se hai rubato se hai fatto cose magari che non deve fare non importa l'importante che tu l'hai fatto poi si pagano le conseguenze di quello che si è fatto ma l'importante è farlo punto e questo è quello che vi viene chiesto lì dentro stira come non so ma la divisa deve essere stirata per domani non ho tempo e lo trovi il tempo prendi un altro con due ferri da stiro e stili la divisa a tutto c'è una soluzione a tutto l'importante è volerla trovare volerla fare tutto qui questa è una cosa che vi aiuterà molto soprattutto lì dentro ma anche magari per altri per altre cose dopo l'addestramento c'è un ranking cioè voi venite valutati sempre h24 siete sempre sotto osservazione siete sempre valutati non non avete un minuto di tranquillità di serenità in ogni quello in ogni cosa che fate come parlate come vi comportate come camminate come marciate come sparate tutto tutto come combattete vi voi siete valutati dopodiché alla fine dell'addestramento c'è appunto un ranking i primi dieci di questo ranking sceglieranno il reggimento d'appartenenza cioè vi verrà chiesto in quale reggimento voi volete andare i reggimenti della legione sono quelli operativi cioè quelli che voi potrete scegliere una volta finito l'addestramento il secondo rei fanteria nym secondo rep paracosistia calvi il terzo rei guiana fanteria foresta il primo rec cavalleria a carpiagne una volta era orange il primo regg primo genio reggimento genio all'odan il secondo genio san cristol e la tredicesima brigata la db le che a oggi all'arzac quando io ero arrolato della legione era a abu dhabi stanziata venne poi spostata sotto richiesta di macron di hollande scusate all'arzac perché in seguito a tutti gli attentati che ci sono stati in francia le altre sfere hanno ritenuto opportuno avere un reggimento di legione interna in più rispetto a quelli che c'era poi questo era quello che ce l'ha stato detto poi se la verità è questo no non lo so però il motivo principale era questo o meglio quello che era scritto nello su bianco questi sono i reggimenti dove voi potete richiedere di andare la guiana all'inizio è un po complicato perché molto spesso è il reggimento dove che viene un pochetto più ammirato perché appunto c'è foresta c'è più avventura c'è molto terreno però c'è un numero molto molto stretto di persone che possano andare e molto spesso valutano cose che non vi dicono per cui mandarvi o meno quindi se non viene accettata la vostra richiesta poi verrete mandati in un reggimento random io personalmente ho scelto di andare nel secondo re infanteria perché perché oggi come oggi a livello di utilizzo il combattimento la fanteria quella che viene utilizzata di più se non fondamentalmente di più paracaturisti anche avrei molto voluto ma è un consiglio che do a per chi è un po più grande fisicamente di non andare se amate la vostra schiena perché è pesante il lancio di un legionario è a 400 500 metri si avete l'automatico quindi quando uscite dall'aereo si apre automaticamente quindi subito ma la discesa è molto rapida quindi l'impatto al suolo è come se voi saltasse da 3 metri e mezzo quindi prima di andare se volete fate la prova saltate da 3 metri e mezzo e vedete che effetto fa la schiena vostra io l'ho fatto e non è bello e quindi ho scelto fanteria sono finito terzo in gradatoria sono finito terzo perché non ero il più bravo assolutamente ero semplicemente quello che ci si metteva di più perché appunto all'inizio ero uno di quelli più indietro perché appunto tutti erano già quasi animali nel senso che comunque erano cresciuti in orfanotrofi tanti tanti una grossa fluenza nella regione c'è dall'est Europa perché le parti più povere quando quando non si ha scelta molto spesso prima di cadere in brutte situazioni tanto la gente ragiona perso per perso vado lì e molto spesso il ragionamento che fanno è questo quindi chi va lì non è che ha molte chance o scelta di vita e quindi sono persone particolari nel senso che sono già mentalmente forse un po' più predisposte rispetto a quello che ero io nel 2014 e quindi ho dovuto faticare molto di più per arrivare al loro livello mentale di adattamento di stress di situazione e tutto quanto e vengono molto spesso dall'africa quindi tutti i paesi poveri quelle che si possono pensare est Europa Asia minore pochissimi americani pochissimi inglesi pochissimi francesi pochissimi italiani pochissimi spagnoli perché appunto c'è uno stile di vita più agevolato più agiato rispetto agli altri paesi e quindi la grossa fluenza c'è da parte di paesi poveri e quindi loro erano molto più forti di me sono più forti di me alcuni sono ancora dentro e sono delle macchine da guerra secondo me molto più bravi di me però appunto quello in cui siete valutati è tutto quindi è nel vostro comportamento nel vostro altruismo nella vostra modestia nella vostra dedizione nella vostra bravura nel parlare la lingua nella topografia nelle marce nelle trasmissioni nel soccorso in combattimento nell'utilizzo delle armi tante cose di cui voi dovrete fare dei test e quindi sarete messi alla prova facendo una media c'è il ranking quindi magari che succede che quello che era fisicamente un atleta nel percorso ostacoli percorso ostacoli della legione è molto difficile perché viene richiesto un tempo di 4 minuti massimo mentre invece per le terze francese si deve fare in 5 minuti a un legge orario viene richiesto un tempo massimo di 4 minuti per finire il percorso quindi è dura molto dura poi facendo una media di questi appunto punteggi di queste valutazioni c'è il vostro ranking e io ero finito terzo e quindi ho scelto di andare al NIM e sono stato accontentato eravamo in 11 ad andare al NIM dopo 6 mesi scusate un passo indietro prima di andare al reggimento si ritorna tutti a Obagne perché si riprendono i nostri effetti personali quindi il telefono, il passaporto, i documenti, i portafogli, tutte queste cose si riprendono tutte queste cose che si sono lasciate ovviamente la prima cosa che ho fatto, non lo leggo a nessuno, è stato accendere il telefono vedere innanzitutto l'ora e la data e lì ho capito che erano passati 6 mesi perché ho detto ok, mi ricordavo che mi fossero lato a gennaio ho detto ok, erano passati 6 mesi, dico ok, è durato 6 mesi sì, era caldo quando ho finito, ma caldo a sud della Francia poteva essere maggio, come aprile, come giugno quindi tornato al reggimento ho chiamato mia madre subito, immediatamente dopo 6 mesi perché fino a lì voi non avete contatti con l'esterno o meglio, quando nel 2014 era così, non potevate chiamare nessuno e quindi una volta dato la bella notizia che andava tutto bene sono tornato a NIM grazie a tutti